vai vai dario hai visto a corta vecchietto hai visto che roba sai che non li dario togli il motore che è il più veloce del modello non lo dicevi chi lo sa insieme ecco che escono entrambi ancora legati dalle nuvole uno sballotto di cuore sballotta di la c'è eccoci che portano sgancio lancio uno va a destra e uno va a sinistra perfetto ma che bello non li vedo più non si vede molto con il cellulare ecco